Tutto pronto per l'edizione 2021 del Rally Italia Sardegna, quinta manche del campionato del mondo rally in programma dal 3 al 6 giugno con base della manifestazione ad Olbia. La gara è composta da tre tappe e prevede un totale di 20 prove speciali per complessivi 303,10 chilometri cronometrati. Valida anche per il VRC2 e il VRC3 del campionato italiano terra. Seguendo le indicazioni e gli aggiornamenti del decreto legge approvato dal governo lo scorso 18 maggio relativo alle misure anti-covid, cambia lo scenario del rally rispetto allo scorso ottobre. L'evento infatti si svolgerà a porti aperte, riamettendo la presenza del pubblico. Sono 59 gli equipaggi scritti all'edizione 2021 del Rally Italia Sardegna. Saranno in totale 23 le nazionalità diverse rappresentate, record uguagliato per la manifestazione che conferma l'internazionalità dell'evento. Sarà presente al Via una nutrita rappresentanza di ben 21 piloti italiani, dei quali 7 sono sardi. Protagonisti anche in questa tappa saranno i piloti come Evans Auger con Toyota, Neville e Tana che è sordo con Hyundai e i due di Ford MS Sport Grismith e Suninen. E con Hyundai i20 VRC Plus il giovane Oliver Solberg. Al Via anche i piloti sardi tra cui Francesco Fresu su una Peugeot 208 T16, Francesco Marrone, l'unico pilota ad aver partecipato a tutte le edizioni della gara, e Giuseppe De Tori con Skoda Fabia R5 è in gara nel campionato italiano terra. Nei prossimi giorni verranno pubblicati sul sito i dettagli delle zone pubblico, dove sarà consentita la presenza di spettatori con una capienza del 25%. Resteranno invece chiusi al pubblico il parco assistenza e le aree di partenza e arrivo per rispettare i protocolli previsti dalla FIA. Saranno sempre valide e obbligatorie le prescrizioni di base, ovvero l'utilizzo della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale.